Buongiorno e benvenuti alla segna stampa di oggi, mercoledì 16 maggio 2018. Questa sera, come sempre, ci sarà Matrix, non ve lo dimenticate, alle 23.30, 23.40, 23.45, 23.50, quando banta loro palinsesto di Canale 5 ci rilascerà la linea. Molti di voi vorrebbero vederlo un po' prima, anche io, se per questo. Mi basterebbe arrivare puntuale. Vediamo questa sera come saremo. Cosa succede oggi sui giornali? Poi in tempi di puntualità qua, insomma, nessuno può scagliare la prima pietra, perché qua dovevamo fare un governo dopo le elezioni, Renzi ci aveva promesso il giorno dopo le elezioni ci sarà un governo. Ma era una vecchia legge elettorale, non gli piace quella legge elettorale, si cambia una legge elettorale e adesso sono passati 75 giorni e il governo non c'è. Doveva esserci il governo Salvini Di Maio, ma il governo Salvini Di Maio, che sembrava cosa fatta, chiedono sempre più tempo. Stiamo per entrare nella storia, dice Di Maio. In realtà la storia potrebbe essere solo una, quella di superare gli 82 giorni che ci mise il governo Amato per trovare la cosiddetta quadra. Il più brutto termine e neologismo che si usa oggi sui giornali per definire un accordo tra i due. L'altra cosa straordinaria è, sui giornali, ieri c'era il tema dell'accordo di governo, che si chiama contratto. Quando Berlusconi lo chiamava contratto con gli italiani, tutti apprendono per i fontelli. Quando invece questi ci raccontano che stanno siglando un contratto e che l'esecutore del contratto è il Presidente del Consiglio, a ridere sono in pochi. Sono un qualche costituzionalista che oggi sui giornali ci spiega che il Presidente del Consiglio, visti l'articolo, mi sembra, 92-93 della Costituzione, non lo ricordo a memoria, ma comunque sia in realtà più che un esecutore e quello che coordina l'attività del governo. Ieri il problema era del contratto, oggi sapete qual è il problema? Della staffetta. Ne parla oggi Becchi sul Libero, per la verità il professor Becchi ne parla da tempo, l'idea che il governo sia fatto da un politico, quindi prima di Tamaio e poi da Salvini. Il modo per fare la staffetta, secondo me, lo dico io, do un'idea geniale ai miei amici, perché diranno ma chi sarà primo, chi sarà secondo, chi farà la staffetta per primo, chi farà e quanti mesi la staffetta, perché poi la staffetta cos'è? È parametrata sulla durata della legislatura, quindi si fa metà l'uno e metà l'altro, e se la legislatura finisce prima, io vi do un consiglio, eccolo, si fa così, testa o croce, testa Salvini, Salvini inizia la staffetta, così dovete fare, fate la staffetta con la moneta, così decidete chi prima dei due deve fare, d'altrote quante cose abbiamo fatto con la moneta, abbiamo perso l'expo per la moneta, no, come si chiama a Milano la sede di quella roba là della farmaceutica, insomma ci siamo capiti. Cerasa oggi scrive, da anni i populisti dicono che l'unico premier legittimo è quello che sia stato eletto dal popolo, insomma sono intrappolati, e in questo ha ragione, siamo intrappolati nella bolla della loro propaganda, adesso non si può più uscire dalla staffetta, perché come fai a prendere un professore universitario che ho detto che le università sono dei tecnocrati, come fai a prendere un banchiere quando dici che le banche fanno tutte schifo, come fai a prendere un magistrato quando dici che i magistrati sono intoccabili, anche se qualcuno dei magistrati non è toccabile, soprattutto da parte del Movimento 5 Stelle, i problemi in questo caso ce l'avrebbe, scusatemi l'allergia, ce l'avrebbe. Chiara Spadoni mi chiede se vado in Rai, Chiara. Riguardo alla staffetta, posso fare una staffetta anch'io, mettiamola così. Altra questione di ieri è questa bozza di cui parla il Corriere della Sera di programma che conterrebbe delle cose che hanno fatto inorridire i mercati. Anche questa mattina per la verità i mercati, il Futsimib perde un punto e mezzo percentuale contro il DAX che guadagna e quindi insomma sembrerebbe un po' in controtendenza l'andamento dei mercati, anche se i mercati, così come il Financial Times, se devono decidere quello che noi vogliamo, bisogna ascoltarli, bisogna interpellarli, bisogna capire cosa vogliono, ma essere vittima dei mercati, attenzione all'inizio della fine di una democrazia, togliamo la democrazia e facciamo decidere i mercati e allora chi deve governare l'Italia. Il sillugismo è perfetto. Io che sono un mercatista penso che il mercato sia fondamentale, sia meglio il mercato dello Stato nell'attribuzione dei meriti, delle risorse, delle competizioni e delle imprese, ma per quanto riguarda il governo delle leggi forse ancora teniamoci la nostra cara situazione democratica. Allora, la cosa più ridicola di questa bozza non era tanto uscire dall'Euro che è una loro vecchia proposta, non era tanto ritirare le sanzioni alla Russia che mi sembra una proposta non soltanto ridicola ma assolutamente di buonsenso, anche se molto difficile da fare. La cosa incredibile è che si chiede a Draghi di azzerare i 250 miliardi di Euro di debito che loro hanno comprato. Questa posizione è semplicemente folle. Negli ultimi anni Draghi con Cantu TV Easing ha comprato il nostro debito pubblico, chiaro? E quindi comprando il nostro debito pubblico ci ha aiutato a venderlo a prezzi ragionevoli. Se tutti chiedono e tutti vogliono le banane, il prezzo delle banane è carmierato, no? È facilissimo da immaginare. Però se poi nessuno vuole le banane i prezzi scendono, scendono, scendono fino a qualcuno che se le compri. Ecco, quello sarebbe stato un grandissimo rischio per il debito pubblico italiano. Ovviamente avete capito, stiamo parlando di tassi di interesse che quindi nel caso che nessuno volesse il debito italiano dovrebbero essere elevatissimi, mentre il fatto che molti lo chiedono, compresa da B e CE, ha reso molto bassi i tassi di interesse italiani. Chiusa la piccola lezioncina, diciamo egocentrica, di economia e di finanza, andiamo sugli altri temi della giornata. È morto Salvatore Ligresti e Tom Wolfe, che c'entrano l'uno con l'altro. Tom Wolfe io lo adoro. Se vedete sul mio sito ci sono un po' di recensioni dei suoi libri, ma per esempio Radical Schick è un libro favoloso, come il farò delle vanità, ma anche nella parte che è meno letta del Radical Schick, che riguarda il Mao Mowering, lo vedreste, gente che va a chiedere i sussidi, una specie di reddito in cittadinanza fatta dalle persone più deboli a New York. Tutto questo nel grandissimo conservatore che frequentava i peggiori salotti liberi all'americani. Ma cosa c'entra con Ligresti, che è un grande finanziere che è morto ieri, mi sembra 85-86 anni? E che quando tu vedi il Sole 24 Ore di oggi e vedi che, se non sbaglio, in prima pagina, però correggetemi se sbaglio perché sto facendo forse delle illazioni, in prima pagina si ricordano nell'ultima notiziola che è morto Tom Wolfe, ma non si ricordano che è morto e non ci ricordano che è morto Ligresti, perché Ligresti da essere il grande finanziere che poteva e faceva quello che voleva a Milano negli anni 80 e il Sole 24 Ore pure, dopo con i suoi problemi giudiziari è diventato l'impresentabile, anche nella morte. Io la trovo una cosa incredibile, mi sarò sbagliato, il Sole 24 Ore avrà messo in prima pagina sia la morte di Tom Wolfe sia la morte di Salvatore Ligresti, anzi gli avrà fatto una sezione più ampia, però in questo momento a me non sembra di averla vista, mi posso sbagliare e se così fosse chiedo scusa a tutti i giornalisti del Sole 24 Ore di dirigenza. Favolosa la storia di Napoli, di De Magistris, il genio De Magistris, l'uomo che non riesco a capire come possa guidare una città, ma anche un condominio o anche la sua automobile che non avrà perché, quello che lui può fare è guidare un trenino, sapete i trenini ma non quelli elettrici che sono complicati, i trenini sono quelli che si svolgono nel paese del paese, in genere nelle case occupate che De Magistris permette che siano occupate nella sua città, perché lì la foto del trenino vediamo che lui il trenino lo conduce molto bene. De Magistris è riuscito a pubblicare sul sito online, o chi per lui, il suo assessore, i suoi uffici, la sua sindacatura ha messo online i nomi di quei poveracci che hanno fatto la richiesta del reddito di inclusione, quindi siccome non hanno soldi fanno la richiesta del reddito di inclusione che è un'operazione fatta dal governo Renzi e lui non solo non sa gestire l'operazione, mette online i nomi e cognomi di chi chiede il reddito di inclusione. Complimenti. Questi si incavolano per la privacy, io mi incavolo per l'incapacità di gestire un'amministrazione normale come quella di una città. Daily Mail di oggi, l'apertura del Daily Mail di oggi come di tutti quanti i giornali inglesi, sapete qual è? Una cosa che non trovate molto sui giornali italiani e che vi consiglio. Ieri l'Istituto di Statistica Inglese ha fatto i conti sugli occupati in Gran Bretagna, sono passati circa due anni dalla Brexit dal giugno del 2016. Secondo il ministro dell'epoca Osborne, in Inghilterra se fosse passata la Brexit, si sarebbero persi 820 mila posti di lavoro in Gran Bretagna. Quindi cosa dice il ministro due anni fa? Brexit, perdiamo 820 mila posti. Sono passati due anni e l'Istituto di Statistica, come tutti i mesi, ha fatto le statistiche. Cosa è successo? Il numero dei britannici al lavoro è il più alto di sempre. Di sempre! Io non sto dicendo usciamo dall'euro, usciamo dall'euro, io sto dicendo le cagate che riusciamo a dire e le cagate che gli economisti riescono e i tecnici e i politici riescono a fare. Il numero degli occupati in Gran Bretagna è il più alto di sempre. Più di 200 mila persone trovano lavoro ogni giorno in Gran Bretagna. Lavorano in Gran Bretagna, il workforce è di 32,4 milioni di persone, più 600 mila persone rispetto a Brexit. Il ministro diceva meno 800 mila, ce ne sono più 600 mila. Ha sbagliato di un milione e mezzo, sto cretino! Oppure di questa persona così intelligente che voleva fare propaganda con i numeri. Di questi una gran parte sono stranieri. Aumentati di 235 mila i lavoratori europei in Gran Bretagna, aumentati di 235 mila i lavoratori extraeuropei in Gran Bretagna e di 155 mila i lavoratori europei. E di che cosa parlano oggi i giornali italiani? Di questo? Del massimo assoluto dell'occupazione in Gran Bretagna dopo la Brexit? No, che Colau viene fatto fuori da Vodafone. Colau dice, eh Colau, così poco considerato in Italia. No, veramente l'hanno provato a considerare quando era in RCS e mi sembra, visti i risultati che sta dando oggi Cairo, che i risultati non ha dato esattamente quelli di Cairo. Cioè RCS si poteva mettere a posto, Cairo lo ha dimostrato di saperlo fare, per ora. E lui, quando è guisato all'epola più importante e prestigioso giornale italiano, forse quell'idea non l'ha data. Quello che voglio dire, Colau è un italiano che perde, è un manager che poi gli attacchiamo sempre, quanto prendono, la castano, non castano. Poi quando perde il lavoro un manager italiano a Londra, stiamo lì a piagnucolare e sottolineiamo che il numero due è un'italiana con questa specie di orgoglio, per cui sui manager siamo orgogliosi, ma quando il Financial Times dice che siamo dei barbari, stiamo zitti, mentre dobbiamo oggi fare dei commenti sui giornali dicendo come cazzo vi permetterà e ci dimentichiamo che dall'Anghilterra invece più che Colau arriva un'altra notizia, e cioè che la Brexit ha portato più posti di lavoro. Se così è, leggiamoci i giornali con questa logica. L'unica cosa che vale la pena oggi sui confini Israele-Gaza da leggere sono due pezzi, Ciro Meotti sul foglio e Magnaschi su Italia oggi. La cosa fondamentale e semplice, banale, che capisce anche un bambino a cosa serve uno Stato a difendere i confini. Se qualcuno vuole invadere i confini, cosa fa uno Stato? Spara. Punto e basta. Nei paesi normali si spara. Soprattutto chi invade i confini ti considera un nemico, chi ti invade i confini considera un pericoloso sovversivo, chi invade i confini non considera la Shoah, anzi pensa che non ci sia stata l'uccisione degli ebrei, anzi pensa che gli ebrei sono stati ammazzati perché se lo meritavano. Se tu pensi che gli ebrei sono stati ammazzati perché se lo meritavano, pensi che tu hai occupato quel territorio e non c'è nessun diritto perché tu stia là e ti superano, e ti superano nei confini e l'organizzazione che mette insieme tutte queste persone è un'organizzazione terroristica, cosa fanno i militari? Sparano. In qualsiasi paese normale. Sparano. Se i tedeschi volano con gli aerei sopra l'America pieni di bomba, cosa fanno gli americani? Sparano. Se gli americani vanno con i loro Boeing sopra la Russia per bombardarla, cosa fanno gli russi? Sparano. Siamo contenti che si spari? No. Però il problema è forse di chi è iniziato, non di chi si difende e difende i propri confini. Chiaro? Ci vediamo questa sera con 105 Matrix, quella è sicura alle 19 e poi chi vorrà potrà vederci questa sera con il Matrix su Cane 5. Ciao!